anticipazioni spoiler terra amara in punto di morte il mals deciderà di mettere da parte l'astio e rancore nei confronti di demir e quest'ultimo farà lo stesso il mass però prendendogli la mano gli farà dire una promessa a demir ossia quello di prendersi cura per sempre del piccolo adnan ed è proprio così ragazzi da come vediamo da queste immagini il mass prima di lasciare per sempre questa terra vorrà incontrare demir il confronto l'ultimo tra il mass e demir avverrà proprio in ospedale dove a caia sta lottando tra la vita e la morte un confronto che lascerà di stucche telespettatori italiani che per la prima volta vedranno i due protagonisti complici il mals farà promettere a demir di prendersi cura della sua famiglia e dei suoi bambini una volta che lui non ci sarà più un gesto veramente toccante che demir yaman deciderà di accogliere mettendo fine così alle incomprensioni con il rivale e promettendogli anche di morire con la consapevolezza che lui proteggerà la sua famiglia un gesto da prividi che siamo certi emozionerà anche voi telespettatori italiani della sua popera terra amara il mass morirà vedete qui questi sono le ultime ore in ospedale insieme alla sua famiglia insieme a zuleyla musgan e demir lui purtroppo è stato vittimo di un incidente stradale che non ha avuto scampo gli costerà la vita ma non morirà se prima non farà promettere a demir di proteggere la sua famiglia il suo peggior nemico che diventerà poi il migliore amico colui che proteggerà il piccolo adnan e anche karemali questo e tanto altro nelle prossime puntate di terra amara